E può essere giusto con le decisioni che prendo, e può essere coedibile. Non vado un giorno a parlare di qualcosa, il giorno dopo a parlare totalmente dell'altra. Bisogna trovarsi poi dei discorsi che siano corretti in base a che è tutto a scrivere la partita in maniera contita, e si vanno a cogliere quei momenti dove c'è da dire qualcosa sul comportamento all'episodio. Si analizza l'episodio, non si analizza il racciatore dentro l'episodio. Il messaggio è sempre rivolto un po' più di un'attesa che è l'episodio. Dentro questa situazione, il comportamento dell'essere preso non è rivolto a te, può a lui. E poi si va ad essere corretti, ad avere una trasparenza, ad avere sensibilità, con molti dei ragazzi si va ad avere un rapporto. Non sono sempre quelli delle altre squadre, i miei garciatori. Non è sempre più bene che l'erba del vicino. Qualche volta è meglio non cambiarla, anche quella del vicino. Per cui si va a curare in profondità quello che vogliamo trasferirci. si va a prendere in considerazione tutto quello che può essere il momento che stiamo attraversando e quindi a trovare delle altre problemi.